Bisogna pensare che effettivamente quando le crisi importanti come queste arrivano sono motivo di forte riflessione. Noi dobbiamo pensare che un certo mondo ce lo stiamo lasciando alle spalle e non tornerà più, non possiamo pensare di tornare ai modelli che abbiamo sfruttato prima del resto. Questa crisi non è meno grave del 1929 in termini sia di distruzione di ricchezza sia di incidenza rispetto agli stili di vita. L'unica differenza rispetto al 1929 è che in questa fase storica i mercati non si sono bloccati.